La ninfa Iale, nata nell'isola di Ischia, riuscì a carpire agli dei il nitro e lo zolfo, che rimescolò con le acque termali realmente fonti di salvezza delle antiche popolazioni isolane. Le donne di Ischia, scrisse uno storico, sono belle, ma quelle di Barano lo sono ancora di più. Il merito è delle acque di nitrodi. La fonte di nitrodi, infatti, non è una sorgente come un'altra, in quanto sono acque sacre alle ninfe. Una di esse, infatti, per punizione subì una metamorfosi. La sua bianca pelle, i capelli e le belle membra furono disciolte come acqua, l'acqua di nitrodi, appunto. Questa, la leggenda, infuriava per le contrade euboiche un grave contagio, causa di lutti continui, per cui la gente rivolgeva preghiere e doni agli dei per ottenere protezione. Così, un giorno, consultando l'oracolo, la Sibilla così vaticinò. La salvezza che cercate verrà soltanto da una ninfa. Di quale ninfa si trattasse non si capiva e di tale incertezza approfittò Iale, brava nel tramare insidie, nata in enaria l'odierna Ischia, introdotta nelle schiere delle Driadi, ossia le ninfe dei monti. Cogliendo l'occasione del risponso, si presentò dunque come colei che poteva fermare e diffondersi della pestilenza. Ma ciò avrebbe potuto avverarsi soltanto dopo aver ricevuto doni votivi offerti presso altari a lei consacrati e tutti accettarono le condizioni. Poiché la profetessa aveva peraltro indicato che soltanto le acque di Ischia potevano portare la salvezza, Iale si insinuò nei reconditi seni per i fumanti bacini e per gli altri tenebrosi. Raccolse quindi nitro e zolfo da mescolare con le acque salutari e già si apprestava all'uscita quando la scorse in Arime che raggiuntela le domandò cosa cerchi? Chi ti ha spinto qui? Così scoperta del suo furto, Iale persi i sensi e la mente e il gelido corpo si irrigidì in sasso. E siccome prima mentre folle desiderava gli onori dovuti al dio indigente, aveva rimescolato i doni di quei fossi di strillanti sotto i rifluenti antri, come se questa fosse una debita parte di pena, fusi ancora i rapiti liquidi e a testimonianza del furto la celebre vergine venne mutata in fonte. E poiché ciò che Iale aveva rubato ai lidi di Iinarime o Iinarime, odorava di nitro, anche alla fonte fu conservato il nome di Nitrodi. Scegliete una vacanza sull'isola d'Ischia e trascorrete almeno una giornata alle fonte di Nitrodi, che si trovano nella parte montana dell'isola tra Barano e Buonopane. Una fermata del bus porta proprio all'inizio della strada in discesa che conduce allo stabilimento termale. Ma non vi aspettate un paradiso di piscine e mare come in altri stabilimenti termali dell'isola. Questo qui è molto più spartano, fatto soltanto di docce e sedia sdraio. A Nitrodi ci si viene per rilassarsi, ma soprattutto per curare le malattie della pelle e dei capelli. Parola di Ninfa.